Buonasera a tutti, siamo nel terzo episodio di Ace of Space, paro piano perchè è tardi Siamo pronti per una nuova puntata al stream, la lista è diventa anche più lunga, abbiamo sempre le stesse cose, però è un abbondanza di più dei server, oggi giochiamo e vediamo se saremo fortunati, allora, scegliamo questo perchè, così, vediamo, allora, di solito si può scegliere, fa due frazioni, quello io volevo prendere i perdi, controlli, sempre gli stessi, e tre per essere spettatori, un fantasma, allora io, vediamo un po' che abbiamo, vediamo, ah, mettiamo il scenario, ah, io ho cambiato il nome, si, Michi, Seppi, su Ace of Space, orse, tanto, ok, vedete, quindi, sono belle costruzioni, vediamo un po', ah, si può altri ricordi, eh, ah, hanno aggiunto la posizione, si può trovare anche la amica, Gigi, se mi scega, è un po' e l'abbiamo senza. una volta all'inizio come on guardate eh ah ah ora c'abbiamo tutti qua eh questa è la mappa mi sta piacendo sempre più di più questo video quindi spoiler per andare in fondo da situazioni e la propria vita e mancappato oggi i verdi su questo server sono fortissimo ahhh per un colpo ah già bene basta e un po' beccato un po' beccato ecco un po' beccato che poteva che poteva è un po' beccato che poteva bravo ora fa ti uccite fa ti uccite per guardare l'altra parte ecco la polizetta la giù in fondo nooo sto semplicino nooo nooo ero vicinissimo bastardo la mia vendetta sarà uccidata la mia vendetta è stata Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo a cambiare. Cambiamo. Ne vediamo un altro. Non è... Oh, bellissimo. Da bene. Io vi faccio. Siamo delle talte scavatorie. No, porca. Baccato. No ragazzi, il cambio è brutto. Mi dispiace. Abbiamo un momento. Animus. Va bene. Sempre più oggi. Stefano. Affinati. Ma... Ok, possiamo Mi sto leggermente incazzando, ragazzi, incredemente, incredemente. ...el momento non mi caccio. Ogni. Oh, Dios. Mi es solle. Ne vale, mi es? Na, 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 no. Ah, no, no, no. Ah, no, 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 no. 3 punteggio, 2 per esempio che ho fatto 244 sessioni 32 secondi, aspetta che cacchio ma sono oltre a palle e faccio video soltanto per fare pubblicità iscrivetevi al mio canale ho anche video di minecraft e glyphyn almeno il primo con torta cake mettete mi piace, commentate e ditemi quello che devo vedere ok 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 non è andato tanto bene non è andato tanto bene e ci vediamo la prossima volta ciao 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 e poi lì su su ciao